Ciao a tutti da Mario Carbone, oggi vedremo insieme l'esercizio numero 10 del metodo per accompagnamento super facile per 2 e 4 bassi. Vorrò ascoltare prima l'esercizio e poi passiamo allo studio. L'esercizio è questo. L'esercizio è ripetuto due volte questo rigo. Allora, quindi c'è ciò che si è eseguito, insomma, come se sono arrivato alla fine e l'ho ripetuto nuovamente due volte questo rigo. Cambia ben poco rispetto a quello di sopra. Abbiamo le prime due battute identiche, vedete? Lo spiego prima. Prima le due battute identiche, la terza battuta ha stessa armonia, solo con note diverse, quindi in posizioni diverse. La stessa cosa vale per la fine, invece di andare in quarta posizione siamo in sesta posizione. Quindi, diciamo, a livello armonico abbiamo lo stesso effetto, solo con suoni diversi. Abbiamo questo, quindi le prime due battute sono queste, uguali all'esercizio numero 9. In chiusura, la terza battuta cambia. Invece di suonare 4 cerchiato 3 2 come l'esercizio 9, andiamo in sesta posizione e suoniamo 5 2 cerchiato 3. Quindi 5 2 cerchiato 3 è un po' scomodo. E in chiusura, invece di suonare in quarta posizione, siamo in sesta. Va bene? Ripeto l'esercizio. Prima le due battute. La terza che cambia, siamo in sesta posizione, in apertura. 5 2 cerchiato 3. In chiusura, 4 3 2. Fate questo per un po' di tempo e ve lo collegate. Sarà così. Ora, lo ripetuto solo una volta, come scritto. Fatelo anche più lento, così. Non è importante la velocità, ma l'uguaglianza delle note, della mano destra e la precisione, soprattutto. L'esercizio numero 10 è questo. E vi mostrerò anche gli suoni, i prodotti con organismo in Sol. Ecco qua, che è questo. Va bene? Ecco qua. Nelle lezioni successive vedremo anche dei brani accompagnati, insomma, proprio l'esempio pratico su alcuni brani contenuti in questo metodo. E in più, anche varie soluzioni, cioè altre variazioni a questi esercizi applicati in varie posizioni di rivolti degli accordi. Perché ciò che abbiamo visto è solo una parte, diciamo, degli accordi. Però, per chi vuole andare avanti, può accompagnare anche nella parte grave e vedremo anche questo qua, nelle prossime lezioni. Per oggi è tutto. Un saluto da Mario Carbone. Alla prossima lezione. Ciao a tutti.